Il proclamante del grande Moshe de Cairo a favore dell'esercito francese fu un capolavoro di abilità da parte di Doppoglioni, e gli indusse il senodo dei grandi scieci a dieci rari, con pubblico atto che i musulmani potevano obbedire e pagare il tributo ai generali francesi. Fu questo il primo e l'unico esempio del genere dopo la predicazione del Corano, il quale proibisce di sommettersi agli e fedeli. I particolari sono davvero preziosi e possono leggersi nella storia della campagna d'Egitto. Strano fu, senza dubbio, vedere a San Giovanni da Cridegli, europei che vennero a compattersi in una cittaduzza d'Asia per assicurarsi il possesso di una parte dell'Africa, ma la cosa più bizarra è che coloro i quali si facevano guerre erano persone delle stesse nazioni, delle stesse età, delle stesse classi sociali, della stessa arma della medissima scuola. Filippo, alla cui capacità grie inglesi ai torchi, allevano depettori della salvezza di San Giovanni d'Acra, ero stato compagno di Napoleone alla scuola militare di Parigi, vi avevano superato grie e esami prima di essere assegnati ai rispettivi corpi, era della vostra sattura, ricordava Napoleone mentre ne ne dettava l'elogio in un capitolo della campagna d'Egitto dopo aver accelerato a tutti i mali che ne aveva ricevuto. Sì, risposi, c'era ancora un'altra sommiglianza perché siamo stati amici intimi alla scuola militare. Quando Egli passò a Londra, conso se di Smith che era riuscito a far vaderi dalla prigione e dal tempio, mi feci cercare ovunque. Per mezz'ora non lo trovai in casa e in qual caso lo avrei forse seguito tanto più che allora mi trovavo senza occupazione. Sarei rimasto seduta da quella vita? Avendo Rosa e chissà quali strani combinazioni ne sarebbero nati per il mio destino. E proprio perché conosco bene quanto parte ai via il caso sulle nostre scelte politiche, diceva a tale proposito l'imperatore, che sono sempre stato senza pregiudizi e indoscenti sulla parte che ci sono, aveva scelto durante le nostre agitazioni. Essere un buon francese o dovele diventare era tutto quello che mi bastava. L'imperatore paragonava la confusione delle nostre lotte civili, a che combattimenti notturni nei quali spesso si colpisci il vicino, credendo di ferire il nemico, quando poi ritorna la luce si ristabilisci gli ordini e si chiarisci gli errori, si perdona facilmente ogni cosa. Potrei io stesso forse affermare, notava Napoleone, che nonostante le mie opinioni nessuna circostanza avrebbe potuto indormi ad emigrare. La vicinanza dalla frontena, un vincolo di amicizia, l'influenza di un capo. Nella rivoluzione si pio' sostenare solo qualche. Che si è fatto, ma non sarebbe saggio affermare che non si sarebbe potuto fare altrimenti. E a questo proposito, l'imperatore citava un esempio singolare come prova della bizarreria del destino. Seruriei e Edouville Giovanni si arrivano, assieme per emigrare in Spagna, si imbattano in una battuglia. Edouville più Giovanni e più Esto passano i confini, si crede fortunato. E vai a visitare miseramente in Spagna, Seruriei obbligato a ritornare. Fogiasco in Francia, desperato, diventa maesciallo. Eccoci io che spesso è pieno degli uomini, del loro calcoli della loro prevedenza. A sergio anni d'Agri, il generale, il capo perdete Caprelli, che Agri amava moltissimo, tenneva il gran conto. E l'altro lo ricamiava con una specie di culto. La venerazione era tal che nei giorni di Telerio prima di morire. Caprelli. Non appena Agri veniva, annunciato Napoleone il solo nome, sembrava riportarlo in vita. Si, calmava, riprendeva il suo spirito, parlava con facilità e ricadeva poi. Nel suo stato, non appena Napoleone era andato via. Queste specie di fenomeno si ripete ogni volta che gli generali venne a trovarlo. Napoleone, durante l'assedio dei San Giovanni d'Agri, ricevette una prova di devozione eroica e molto commuovente, trovandosi in triceo una bomba cercata ai suoi piedi. Due granatieri si chetterono subito sopra di lui, se lo posero in mezzo, e sollevando le braccia al di sopra della sua testa, lo coprirono da ogni parte. Per fortuna la bomba rispettò tutto il gruppo e nessuno fu ferito. Uno di questi valorosi granatieri divenne in seguito i generali domicili, molto popolari fra i soldati, con il nome di gamba di legno. «Perché aveva perduto una gamba alla battaglia di Mosca», comandava la piazza dei Vincenzi dell'epoca delle versioni del 1814.